...era contrassegnata dal malaffare, contrassegnata dal clientelismo e contrassegnata dalle azioni politicamente scorrette. L'inizio di una nuova fase, come diceva l'amico Michele Grima, l'inizio di una fase di rinnovamento, l'inizio di una nuova fase di crescita sociale, politica, culturale e morale. Ricordiamo tutti quanti nel 2008 quando il nostro sindaco inaugurò la campagna elettorale e si prefiggeva di realizzare progetti strabilianti. Stranamente tutti quei progetti sono falliti. Allora la verità è che questa città è...